benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e quella di oggi è la recensione del grande russo gigantesco incrociatore super nave novosibirsk unità tier 11 sovietica che effettivamente prosegue quella che è la leggendaria diciamo linea navale che porta al grande tier 10 petro pavlosk avete visto dalla sovraimpressione siamo qui su trident insolita mappa con i tier 10 e le supernavi satsuma contro ushakov novosibirsk contro klosevitz e infine il solito sommergibile che ormai è diventato onnipresente nelle random battle bala americano contro u45 01 nuova unità premium tedesca rilasciata da pochi giorni triplo cap domination noi giocheremo prima sul fianco c ma poi cercheremo poi di effettuare una manovra diciamo a pendolo per andare un po ad aiutare dove serve il nostro aiuto questo perché il novosibirsk è una sorta di jolly che può fare veramente veramente qualsiasi cosa e nel corso di questa partita ve ne renderete conto l'abbiamo messo qui in questa colorazione rossa perché ricorda un po l'unione sovietica diciamo il rosso comunista stalinista linista e diciamo che in questo video di partita giocheremo impegnando probabilmente la nave da battaglia vermont sul lato destro cercando anche di metterla diciamo in mutande perché effettivamente la gente ancora non si rende forse conto di quanto potente questa unità di quanto può far male alle batteship anche quando spara con i normali proiettili ap che però normali propriamente non sono è un incrociatore che poi verrete anche con la scheda dedicata alle skill e ai moduli può arrivare a quasi 71 mila punti vita con ovviamente la sovrabilità expert ha un danno rotazione sui torb del 25 per cento che comunque diciamo soffre abbastanza anche perché ha un timone veramente lentissimo che ricorda un po la cremelino che è una propria da 25 limiti ma tra l'altro è molto molto rinforzata è una propria piuttosto complicata poi la vedete nella scheda armatura non è una normalissima prua facile come sembra da penetrare specie quando la nave comincia un po angolarsi per diciamo mettere un po in difficoltà chi vi spara contro tra l'altro una cosa fighissima di questa nave che pochi trattano è il fatto che abbia un ponte centrale da 50 mm questo lo rende ancora più resistente contro il focus incendiario degli avversari che cercano continuamente di colpirlo pensando di riuscire ad affondarlo poveri stolti pietro pavlos il nove sbis comandanti è una nave che veramente per riuscire ad affondarla ci vuole una dura durissima lotta spesso in superiore in america perché non uno contro uno è veramente difficilissimo da ingaggiare quando delle mani dei giocatori particolarmente esperti come potete vedere c'è il buffalo e che qua può sembrare un fesso ma tanto fesso nella prese guardate non naviga effettivamente parallelo a noi e appena abbiamo sparato guardate un po effettuerà una virata per evitare i nostri colpi da 2 54 si aggressivo spregiudicato anche un po diciamo stupidello ad avanzare così inizio partita ma stolto comandanti quel tizio non è quindi assolutamente lui la sua angolatura di nave la sa diciamo gestire anche se poi vedete che non farà propriamente una bellissima fine per quanto ricorda la velocità massima di questa nave con la bandierina a bordo può arrivare a 36 nodi e una velocità tutto sommato buona non è eccezionale non è ovviamente il conde comandanti quello fatto apposta per tagliare gli oceani come una spada però è comunque un incrociatore che si muove diciamo abbastanza agevolmente ma poi questo timone terrificante 1090 metri di raggio virata con un timone che risponde alla massima efficienza in 13 secondi e 4 è effettivamente il timone che avete visto sull'ushakov sulla sojus sulle navi da battaglia sovieti che insomma è un timone da corazzata non da incrociatore ma d'altronde comandanti essendo così potente essendo così tosto tosto diciamo che qualche punto debilevano darglielo per forza e allora hanno deciso di dargli questa pachidermica raggio virata che appunto gli ricorda le corazzate russe a sinistra a destra andato sta impegnando la ushakov mentre il closeviz sta facendo il closeviz ovvero rompere le scatole a lunga distanza con i suoi proiettili incendiari incrociatore che nelle mangiiste può fare danni aiose ma non è poi così decisivo nelle periodo non come il grandissimo e novosibirsk per quanto riguarda il sistema di mimetismo della nave ha un sistema di mimetismo che gli permette di restare invisibile fino a 12 chilometri 700 metri via acqua e 8 chilometri a 3 di aria e via immersa è un mimetismo che ricorda un po' diciamo una corazzata inglese tier 10 ecco diciamo che non è propriamente quello di un incrociatore ma ovviamente anche qua discorso di prima è qualcosa di negativo non ho più il darlo il santander così broadside alla ushakov grandi misteri riguardo quel ragazzo lì non penso che resterà vivo ancora a lungo contro la grande super battleship sovietica infatti viene cancellato brutalmente da una salva della ushakov che quasi non ci crede di trovarsi lì l'incrociatore leggera con la distanza ovviamente che non siamo come lui andiamo in posizione di kiting continuiamo a usare i nostri potenti proiettili ap perché comunque avete visto che anche sulla fiancata entrano botte da 10 12 14 mila vi assicuro che su alcune navi su alcune corazzate e poi lo vedrete può arrivare anche la cittadella lui cittadella quasi tutto e quando non cittadella entrano salve da 8 10 12 mila con una frequenza di circa 11 10 secondi ecco perché pochissimi possono fare a botte con lui è illegale comandanti è estremamente illegale per quanto riguarda le sue batterie offensive mentre la uscica sta per fare visita a nettuno la queste batterie sono tre torri trinate 254 millimetri toste toste come quella del petro esattamente come per quanto riguarda il petro palco anche noi sul novosibirsk abusiamo dei proiettili ap poi faremo un discorso particolare riguardante la skill che la wargaming consiglia di installare ovvero quella di le ap migliorate ma io non sono assolutamente d'accordo e sono convinto che nella seconda parte del video anche voi sarete d'accordo con quello che dico con quello che penso perché vedrete un po' quanto possono essere utili degli extra hp rispetto all'extra danno ap che è inconsistente su quella skill tre punti assolutamente buttati dicevo tre torri trinate 254 millimetri che sparano ogni 11 secondi base con 25 secondi di brandeggio a 180 anche la torre ricorda un po' il brandeggio tedesco molto molto mobile la dispersione è incredibile 182 metri di dispersione a 19 chilometri ma con un sigma di 2.05 quindi il colpo ha una dispersione piuttosto anomala ma è il fatto che il sigma sia così alto permette al colpo di stringersi essere incredibilmente efficiente contro qualsiasi cosa cui spara anche ad ampie distanze per quanto riguarda poi il munizionamento è il classico incendiario e ap con una fire chance che arriva al 16 per cento un danno massimo in h e di 3550 la ballistica è uguale sia in ap che in h e di 900 metri al secondo né elite come quella del nevski e del petropavlos ma comunque 900 metri è abbastanza facile colpire tutto quello che vi circonda e fargli brutalmente male questi canoni poi hanno una penetrazione in h e di 42 millimetri piuttosto buona e anche se come detto prima bisogna comunque utilizzare maggiormente il proiettile a piste si vuole veramente sfruttare al massimo quelli che sono i cannoni classici del petro che poi vengono ereditati e sfruttati a manete e potenziati sul navo sibirsk per quanto riguarda le secondarie attenzione perché le secondarie bisogna trattarle perché non è un incrociatore che fa male solo in lunga distanza ma anche quando carica e poi lo vedrete sulla jean bart ragazzi fanno male sono sei torre binate da 152 millimetri che sparano fino a quasi 8 chilometri con una fire chance del 12 per cento una ricarica di 7 secondi è un danno massimo di 2200 e comandati fanno male queste secondarie trovano anche l'incendio molto spesso quando accorciate anche se lui non ha i siluri perché non ce li ha un dei pochi punti deboli del petro pavlos e del novo sibirsk l'assenza dei siluri effettivamente queste secondarie fanno veramente tantissimo lavoro quelle poche volte che incrocia se diciamo l'esigenza lo richiedesse poi lo vedrete sulla jean bart e sulla louisiana nella terza parte della partita qui c'è il petro che vuole un po fare a botte con noi poi a certo punto si sposta perché capisce che sta facendo è una manovra azzardata a combattere contro quello che il suo fratello superiore e quindi decide di spostarsi anche perché abbiamo sempre il supporto di altre navi da questo lato che potrebbero impegnarlo e farlo trovare in netta inferiorità numerica il nemico è effettivamente avanti comandanti ma lo è solamente perché fin dall'inizio della partita è riuscito a tenere il cap di b cosa che però non accadrà ancora a lungo perché il nostro intelligentissimo zf6 il miglior nave a cantiere navale mai esistito della wargaming la zf6 è un piccolo grande gioiello se avete la possibilità di prenderlo in qualche asta futura o se lo metteranno in vendita io non lo so perché era solamente del cantiere navale lo zf6 è un grandissimo destroyer un tier 9 veramente potentissimo e poco conosciuto perché è rimasto veramente a disposizione per pochissimo tempo dicevo oltre alle secondarie abbiamo il suo compartimento antisommergibile che è dotato infatti di due attacchi singoli con due bombe in pelù da 4.900 fino a 8 chilometri con 30 secondi di ricarica e a tutti gli effetti comandanti è un attacco antiaero di una quarazzata ecco perché è così temibile anche contro i sommergibili qui il Pietro Pavlos ovviamente trova la cittadella perché è completamente broadside qui abbiamo leggermente forse alzato il colpo e comunque a centro navale ma lui riesce in qualche modo a incassare qui l'RNG diciamo che lo ha particolarmente aiutato poi a questo punto si porta dietro l'isola e riuscirà a sfuggire ai nostri canoni giusto per un perro altrimenti il colpo sarebbe stato certamente letale e conclusivo per la sua partita ma comunque non durerà ancora tanto la cittadella infatti una almeno entrata comunque lui non perdona grazie a qualsiasi cosa colpisce sul fianco e la Louisiana lo capirà tra qualche secondo e lo disintegra lo liquida è una nave che veramente lascia pochissime possibilità agli avversari quando questi danno maniera stolta al broadside a livello antiaereo anche qui è particolarmente forte anche se c'è una cosa da analizzare è dotato di batterie moderne da 50 52 scusate 57 322 di continuativo e 1838 radiante fino a 6,9 chilometri è un danno antiaereo potente ma non è un danno sempre con questi numeri fino a max distance ecco perché effettivamente è bacio intellinato non è così efficiente come sembra è assolutamente un ottimo danno antiaereo ma non è così potente come possono sembrare le statistiche qui se guardate la Louisiana ha subito capito quello che sta accadendo infatti se guardate tra poco comincerà brutalmente a sforzare perché oddio la base di persinazione fuga e comincerà a scappare dando il broadside dando scuote e l'angolatura bassa perché ovviamente sa che noi lo stiamo colpendo sono convinto che lo sapeva che eravamo noi anche perché eravamo l'unica cosa che poteva cancellarlo da questo lato tra l'altro un velo pietoso stendiamolo su quel disgraziato con la satsuma che veramente c'è io non capisco da questo lato non c'è nessun destroyer l'unico è dall'altra parte hai campo libero jean bart e Louisiana in fuga e tu cosa fai ti muovi maniera orizzontale alla linea invece di andare giù e farmare danno contro quelle due navi io la scelta della satsuma proprio non l'ho capita infatti il punteggio non è che la premierà più di tanto qui abbiamo continuamente cercato il colpo a pivot visto anche quando si angola la nave ed è una corazzata e non è un incrociatore un destroyer entrano anche salve comunque da 7 8 mila anche sul ponte quindi passiamo alle a che per cosa volevo vedere quanto effettivamente riusciamo a trovare l'incendio prima salva primo incendio e ve l'ho detto comandante qualsiasi cosa lui colpisce lui la distrugge come Ivan Drago praticamente a questo punto possiamo trattare i suoi consumabili a volte ne fatti al damage control classico alla bomba antista abbiamo il sonar che è un classico della marina sovietica per quanto riguarda questa statistica 3 chilometri e mezzo di spotting sui torpedo 5 sulle navi con 110 di durata massimo e 114 di ricarica e poi il suo fantastico famosissimo e famigerato radar da 12 chilometri che però esattamente come per il Petro Pavlos che in realtà ha un piccolo problema che poi piccolo tanto non è ed è il fatto che dura poco questo radar infatti ha una durata di solamente 18 secondi e una ricarica di 114 quindi è esattamente come il grande TR-10 anche il suo radar anche se va molto lontano non vi permetterà di spottare gli avversari a lungo infine il repair party 424 HP al secondo recuperate per 28 secondi con una ricarica di soli 76 classico repair party standard potenziato di durata con la novembre x foxtrot e ovviamente con l'effettivo aumento di HP che può generare grazie alla bandierita gialla del quale non mi ricordo mai il nome qui entrano in azione le nostre fantomatiche e buonissime secondarie da 152 mentre ci mettiamo full frontali alla grande battleship tier 9 Jean-Bart una delle mie preferite come sapete tra le navi ritirate di quel tier qui la Satsuma continuamente dorme siamo 2 contro 1 Jean-Bart e Louisiana contro il piccolo grande neanche tanto piccolo Novosibirsk lui proprio la bulla la corazzata proprio si mette qua e dice cosa vuoi farmi con i tuoi 380 non mi fai una cippa di minchia e le mie secondarie fanno più danno che le tue primarie proprio lui tranquillo beato felice va lì all'Euziana disperata oltre che le canoni cerca di usare anche i suoi bombardieri altra salva ancora giù 4k il balao se la vuole andare a prendere con la Louisiana ma diciamo che è un po' disingaggiato la zona la Satsuma è ancora in crociera come sempre in linea E lei mai che mai superare la metamappa non si fa mai a questo punto fingiamo di andare a destra poi andiamo a sinistra per fregare la Jean-Bart che ci aspettava di venirci addosso spostiamo leggermente le torri a destra aspettiamo di avere l'angolo migliore e a quel punto lo disintegriamo perché lui evita i siluri ma non può evitare i nostri 254 armati a stalinio arriva ovviamente la medaglia i-caliber è già arrivata no non è ancora arrivata la confedera arriverà dopo guardate cercheranno di affondarci occhio adesso perché qua entra il bello del video comandanti perché il comandante Kutuzov vale tutto il carbone della nave per questo motivo guardate un po' ha spento l'incendio è immune agli incendi e comincia a recuperare punti vita questo è uno dei talenti speciali di Kuznetsov l'altro è quello che quando fate First Blood aumenta un aumento di uno del consumabile ma è questa la sua abilità principale Kuznetsov comandanti sulle corazzate sovietiche sugli incrociatori da battaglia sovietici sugli incrociatori pesanti sovietici come Nevsky e Petropavlov sulla supernave Novosibirsk comandanti è fantastico ha delle capacità straordinarie quel comandante lì è giù quel disgraziato del Kuznetsov che si formava il danno a distanza a questo punto Yoshino va in azione non tanto il nostro repair party mentre la Louisiana cerca qualche botta altro incendio ma fortunatamente abbiamo il nostro damage contro a disposizione e poi tramvata della Satsuma che finalmente risponde presente e fa male al Yoshino avversario a questo punto tramvata laterale sulla Louisiana che forse vuole mangiarsi altre cittadelle questa volta no solo in pain ovviamente è van spotted ma solo per pochi secondi per me ha capito che siamo nuovamente su delay infatti sta già virando il maledetto non vuole darcelo la soddisfazione di affondarlo maledetto lui che ci sta provando in tutti i modi a impedire l'affondamento qua aggiustiamo leggermente la prova lui tira completamente quasi in blind a un certo punto perché è disperato e sarà la degrossa a tirarlo giù con un colpo secco dalla linea di E10 comandanti questa era effettivamente la nave nella sua diciamo nel suo gameplay questo è il punteggio finale oltre un milione di crediti 258 mila di danno quasi 260 con tre kill diverse medaglie qualche cittadella tutte tra l'altro sulla corazzata a parte una quindi questo dovrebbe farvi capire quanto effettivamente è devastante scontro le corazzate il punteggio di team è piuttosto eloquente siamo arrivati ampiamente nelle zone alte anche se lo ZF6 campando due basi è riuscito ad arrivare primo complimenti comunque a lui grandissima nave comunque alla ZF6 e poi tutti gli altri a rimorco dietro non so come una slava sia potuta arrivare quarta ultima in un match del genere considerando che c'erano tanti bersagli ma ormai nave punteri cerca sapete benissimo che può capitare di ogni importante prima di andare oltre è questo comandanti guardate un po' quanto può costare in manutenzione questa nave perché è molto importante quando si parla di super nave bisogna sempre considerare le spese e se guardate 420 mila di manutenzione con 360 di servizio più 60 di manutenzione e queste cose le spenderete sempre indipendentemente che la nave la riuscite a finire una partita con la nave che galleggia oppure la nave affondata questo per questo spese sono praticamente onnipresenti ecco perché costa così tanto giocarlo e mantenerlo perché effettivamente i comandanti ha dei costi esorbitanti come tutte le supernavi queste sono le skill e i moduli scelti a bordo del grande Novosibirsk è ovviamente un setup full cruiser pesante abbiamo messo le superabilità come dicevo prima perché va a aumentare l'HP della nave immaginate se non avessimo avuto quegli HP extra che sono praticamente circa 5000 punti extra saremmo stati certamente affondati oltre al fatto di montare Kuznetsov che è un comandante incredibile su questa nave effettivamente gli HP migliorati lavorano molto di più che le HP le HP comandanti vi danno un vantaggio di pochissima percentuale tradotto nei danni che abbiamo fatto avremmo fatto circa 12 forse 13.000 danni in più è un danno infimo se considerato ha il vantaggio di avere più punti vita e considerando quanti questi punti vita si traducono in danno maggiore quando restate a galla per me è questo setup migliore per i novosibirs ma anche per tanti altri incrociatori pesanti di World of Warships abbiamo poi messo lo switch veloce dei colpi perché ogni tanto passiamo anche alla K quando gli avversari si mettono in fuga o sono di poppa o di prua e poi ovviamente adrenalin rush e mimetismo che sono un po' dei must per qualsiasi incrociatore di questo gioco per quanto riguarda i moduli radar è migliorato per portare a 10 secondi il propulsion per lavorare quando siamo in kiting la precisione è migliorata ovviamente sui canoni principali e poi la ricarica per i comandanti 19 km di gittata è più che sufficiente per questa nave non vi serve sparare a oltre 20 km non siete una battleship per quanto riguarda l'armatura ottima del novosibirski è la seguente primo poppa da 25 rinforzati con questi extra fasciami da 40 all'altezza della linea di galleggiamento che vanno tantissimo a lavorare contro gli avversari e rendono il novosibir difficilissimo da penetrare specie quando riesce a giocare mezzo angolato avete visto come riuscivamo a tancare tranquillamente le corazzate senza nessun problema il ponte centrale da 50 è fantastico contro i proiettili a che poi c'è questa fascioma da 210 laterale che va a proteggere una spaziatura che vedrete poi successivamente perché quella non è la cittadella è un compartimento spaziato extra la sua cittadella è particolarmente alta poi la vedrete ma comandanti ha due spaziature di divisione quindi effettivamente il colpo può incastrarsi in quella zona prima di arrivare in cittadella evitando i danni principali che potrebbero essere letali su altri incrociatori questa è l'armatura dettagliata e Novosibirski guardate la cittadella è molto alta è vero ma se guardate quel 120 mm va a lavorare sul 210 esterno di fatto quasi duplicando la capacità di fasciame difensivo della nave ecco perché nonostante la cittadella sia così alta non è così facile trovarlo in cittadella certo poi se state completamente paralleli all'avversario e questo è a 12 km e vi tira una tramvata di 460 comandati a quel punto ok molla anche lui però se riuscite a giocare un po' di timone che comunque è difficile da gestire angolarvi muoverevi smettere di sparare cambiare la posizionamento giocare un po' di prua infatti con tutte queste manovre un po' difensive che riuscirete poi ad apprendere con il corso del tempo può diventare un incrociatore veramente indigesto da affondare come poi lo è il suo fratellino minore ovvero il Petro Pavlosk per quanto riguarda i pro e i contro il bilancio finale diciamo di questa grandissima nave è ampiamente positivo c'è poco da fare ragazzi è una delle navi supernavi più forti che abbia mai giocato è decisamente robusto ponte centrale da 50 mm cannoni 254 con ottima penetrazione avete visto come riescono a penetrare anche le corazzate a lunga distanza ampia agitata perché 19 km per un cruiser è un lusso averli di base potenti secondari da 152 anti-air efficiente forse sono stato anche abbastanza ingeneroso forse è più che efficiente anche se quel danno non arriva a 6,9 km il fatto comunque di poter cominciare a ingaggiare con la distanza è comunque un grande vantaggio che pochissime altre navi possono avere abbastanza veloce radar fino a 12 km capace di combattere contro qualsiasi avversario l'avete visto incrociatori bat ship destroyer ha anche delle ottime bombe antisommergibile le portarei proprio quelle le disintegra anche solo appena mostrano il fianco insomma come dati è una nave che può abbattere qualsiasi avversario con anche a volte irriverente facilità cioè quasi ti senti quasi di barare quando giochi perché effettivamente è così mi sento sporgono gioco in Novosibirsk ed è estremamente potente ve l'ho detto anche prima io vi dico due numeri solo un numero il mio danno medio ho giocato questa nave tra i test e quelle giocate sul mio account l'ho giocata per circa 34 partite sapete quanto è il mio danno medio è 174.000 cioè è un danno medio altissimo per una nave che sì è vero che è una super nave ma va comunque nel matchmaking con i 9 e i 10 vuol dire che quando gioco questa nave mi porto via quasi 2-3 navi avversarie io praticamente affondo circa un quarto della formazione nemica prima di essere affondato e questo di media poi potrei anche fare di più come in questo caso quindi capite che voi che è una nave che sbilancia tantissimo la partita quando è nelle mani di un buon giocatore i punti deboli il timone è scarso tipo forse questo è il suo problema principale il radar dura solamente 28 secondi questo è un problema a metà perché è un problema solo quando ci sono i destroyeri in acqua niente si luri questo è un problema solo quando accorciate e poi è estremamente costoso questo effettivamente se non avete un account premium non riuscirete a sostenere le sue spese e poi nessun consumabile speciale a differenza ad esempio dell'Edgar oppure non so della Napolis oppure anche solo del Conde che abbiamo citato prima non c'è un'abilità speciale che è il famoso tastino d'attivazione però effettivamente se avete visto lui i comandanti non ne ha bisogno ecco perché è comunque potente così quindi ci mancherebbe altro che la Wargaming gli desse anche quell'abilità sarebbe diventata la nave più forte di tutti i tempi di questo gioco quindi va benissimo così tra l'altro se avete visto diciamo che di questi cinque difetti quelli veri sono probabilmente solo due ovvero il timone e il costo il resto diciamo sono difetti proprio tirati per i capelli giusto perché volevo un po' allungare la lista perché mi sembrava veramente spudoratamente a favore della linea verde ma comunque lo è lo stesso comandanti io spero che comunque la recensione vi sia piaciuta se avete delle domande riguardo alla nave rimango a disposizione qua sotto tra i commenti su youtube e come sempre sul finale di video vi ricordo che io e la Mirelio Grigio siamo all'indro durante la settimana su Twitch vi aspettiamo dopo le 20 giù nell'infobox c'è il link al nostro canale del sito Viola se volete venire a farci un saluto siete sempre benvenuti e soprattutto comandanti potete abbonarvi se volete veramente sostenere il canale in due modi o pagare 4 euro al mese quello è l'abbonamento classico a pagamento oppure se avete Amazon Prime collegate Amazon Prime a Twitch giù nell'infobox c'è il link per collegare l'account nel primo commento e a quel punto semplicemente cliccando due volte potrete abbonarvi senza costi in maniera completamente gratuita per 30 giorni al mio canale e dare un concreto Amazon che paga per voi al mio canale in questo caso darete un aiuto economico piccolino ma diciamo che la goccia fa il buco e ci permettere sempre di migliorare la postazione e comprare trattature migliori e fare video sempre più decenti nel corso del tempo un gigantesco sempre grazie a tutti i giocatori della Blaze Squad che sono i veri supporter delle mie iniziative e delle mie avventure tra i mari di World of Warships comandanti per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto noi ci sentiamo prossimamente lunedì con un nuovo video e questo fine settimana ovviamente con le finals del King of the Sea sempre su Twitch nel fine settimana dopo le 15 comandanti da sottoscritto e dal signore grigio del lago di Garda è tutto alla prossima come sempre buona caccia e dal signore grigio